Per sollecitare il via libera del governo giallo-verde al decreto sulle misure urgenti per i precari della scuola, i sindacati hanno dato vita a un nuovo presidio di protesta davanti alla prefettura di Firenze. In tutta Italia sono migliaia gli insegnanti che aspettano il baro del cosiddetto passi, il percorso abilitante speciale e del concorso straordinario per la scuola secondaria. Secondo i dati della CISL, dai 90.000 precari dei tempi del governo Renzi si è arrivati quest'anno a quota 200.000. Per dare un'idea, quest'anno nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola media, non verranno fatte assunzioni nonostante ci siano 196 posti liberi, vacanti, che potrebbero essere stabilizzati. Quindi questi 196 posti vanno ai precari, vanno ai supplenti, per cui ecco che il numero di anno in anno del precariato cresce in modo esponenziale. Noi abbiamo avviato un percorso di stabilizzazione a seguito del ricorso e della vittoria in Corte di Giustizia Europea, che metteva l'Italia assolutamente in mora rispetto alla stabilizzazione, ma ancora non ci siamo. Dico solo un numero, quest'anno in Toscana stabilizzeranno circa 5.400 posti, ben 200 al di sotto, dei posti vacanti e disponibili in regione. I sindacati reclamano attenzione anche sulla stabilizzazione del personale ATA e sottolineano la carenza di direttori dei servizi generali e amministrativi in Toscana. Secondo i dati della CISL, ne mancano 237 su 492 scuole. L'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli si è recato sul cantiere del raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca per verificare l'avanzamento dei lavori nella prima tratta di 12 chilometri Pistoia-Montecatini già realizzati per l'80% in attesa dell'avvio del servizio commerciale previsto nel 2020, nonostante il ritardo di qualche mese per un imprevisto geologico. La delegazione, composta da consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti di rete ferroviaria italiana, ha visitato i due nuovi ponti alla Galleria di Serravalle, di cui restano da scavare 415 metri. Il costo del raddoppio dell'intera linea è di 487 milioni di euro, 215 milioni statali, 216 regionali e 56 inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma tra RFI e il Ministero dei Trasporti. Con opere come questa si dimostra come la regione sia vicino ai territori e stia dando delle risposte che sono risposte veramente importanti in nome della strategia di una mobilità sostenibile che vede appunto il treno come priorità rispetto ad un trasporto pubblico locale che poi si deve avvalere di un servizio gomma che integra e completa. I lavori sulla tratta prevedono il rinnovo tecnologico e infrastrutturale della linea e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello attraverso i sottopassi, in parte già realizzati con importanti ripercussioni sull'alleggerimento del traffico auspicato dai sindaci dei comuni interessati. Noi abbiamo la Firenze Maria alle spalle, con la Firenze Maria alle spalle, quando un incidente, speriamo mai, però si blocca e tutto il traffico viene riversato su 435. Per noi è importante che i tempi di conclusione del primo lotto si rispettino abbastanza perché noi siamo interessati anche che parta il secondo lotto, perché una serie di interventi che abbiamo ottenuto su Pia Vagnevole saranno realizzati con il secondo lotto della ferrovia. Su questo fronte, per gli 8 chilometri di linea ferroviaria tra Monte Catini e Pesce, è previsto il miglioramento e il rinnovo degli impianti entro il 2020, mentre nel 2021 partiranno i lavori per il raddoppio, in affiancamento alla vecchia linea, dei 25 chilometri di tratta tra Pesce e Lucca, fine dei lavori prevista nel 2024. Per aiutare i territori messi in ginocchio dai nubi fragili del 27 e 28 luglio, la regione toscana ha stanziato 1 milione e 900 mila euro per le spese di somma urgenza e ha aperto nella sede del Genio Civile di Arezzo uno sportello Fidi Toscana, presentato dagli assessori al territorio Vincenzo Ceccarelli e all'ambiente Federica Fratoni. A disposizione delle imprese colpite, microcredito fino a 20 mila euro e per le aziende agricole garanzie da 25 mila a 160 mila euro. Penso che la misura del microcredito alla quale poi si associa anche la parte agricola siano misure assolutamente importanti che credo saranno raccolte con grande favore. Siamo qui alla sede del Genio Civile, via Rigotesta 4, lo dico perché almeno tutti sanno dove rivolgersi e ovviamente avremo uno sportello aperto dedicato per supportare le imprese a compilare la modulistica e ad accedere quindi al finanziamento. La delegazione regionale ha anche svolto un nuovo sopralluogo nelle località dell'Aretino più colpite dal maltempo, a Olmo e Pieve a Quarto, per una ricognizione dei danni che in tutta la Toscana ammontano a 46 milioni di euro, secondo le prime stime. Ora, dopo la dichiarazione di emergenza regionale, si attende che il governo accolga quella di emergenza nazionale. Se questa verrà riconosciuta ci sarà la possibilità anche di interventi a sostegno delle imprese, a sostegno dei privati che in questo momento non sono previsti perché i primi interventi sono quelli della somma urgenza. Cosa devono fare le imprese danneggiate dal maltempo per ottenere i contributi? Si accede tramite il sito Toscana Muove, lo ripeto, www.toscana-muove.it I prodotti a disposizione sono due, sono la garanzia per le imprese che hanno avuto eventi di calamità, che sono state colpite gli eventi di calamità e il finanziamento, quello più importante, di importo di microcredito fino a 20 mila euro a tasso zero. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha preso parte a Roma presso il Ministero per lo Sviluppo Economico alla riunione del gruppo di coordinamento e controllo per l'attuazione del programma di rilancio industriale di Piombino. Al termine dell'incontro Rossi ha riassunto le quattro linee principali di intervento, a partire dalla presentazione da parte di Gindal entro gennaio del piano industriale per ricominciare a produrre acciaio a Piombino. Per far questo bisogna che ci siano condizioni anche di carattere istituzionale, l'accordo prevede che lo Stato garantisca un costo dell'energia, io dico analogo a quelli agevolati che ci sono in altre parti del paese, e su questo bisogna che sia data, lo dico senza polemiche, ma una risposta rapida in tempi certi. E per quello che riguarda noi come regione toscana abbiamo bisogno che Gindal presenti i suoi progetti per ottenere l'impegno da parte dell'Europa di erogare 30 milioni tramite la regione toscana per gli aspetti di contenimento dell'impatto ambientale. Altri 30 milioni di euro di fondi regionali e statali finanzieranno progetti per la ricerca, la formazione e l'innovazione tecnologica. Per quanto riguarda la nuova linea di lavorazione dell'acciaio proposta da Gindal, Comune e Regione si sono impegnate a rilasciare a tempi record la relativa variante urbanistica. La polizia ha arrestato su disposizione del GIP del Tribunale di Firenze cinque persone tra i 22 e i 43 anni, un fiorentino e quattro napoletani accusati di aver rapinato un imprenditore di Sesto Fiorentino la sera del 25 settembre 2018, spacciandosi per Carabinieri in Borghese con un falso mandato di perquisizione. In tre quella sera portarono via 40 mila euro in contanti, gioielli e un lingotto d'argento. Le accuse sono di rapina aggravata, sostituzione di persona e possesso di segni distintivi contraffatti. Un colpo non improvvisato. Nel corso dell'indagine è emerso un contatto tra quattro pregiudicati per partenopei con precedenti penali e o di polizia partenopei e un soggetto invece di morante in questa provincia, in provincia di Firenze che ha svolto la funzione sostanzialmente di basista che ha fornito ai rapinatori le informazioni sulla vittima. A mettere la polizia sulla strada giusta sono stati l'accento napoletano dei malviventi, i segnali dei cellulari, dei GPS delle auto noleggiate prima del colpo e le immagini di videosorveglianza della casa della vittima. L'uomo ritenuto il capobanda di Acerra, in provincia di Napoli, è in carcere. Gli altri, tra cui il fiorentino, sono ai domiciliari. Dopo un giugno e un luglio poco esaltanti per il turismo in Toscana, alberghi e strutture ricettive puntano tutto sul mese di agosto che, stando alle previsioni del Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti Toscana, potrebbe risollevare la situazione. A voler recuperare terreno sono soprattutto le località balneari, dove le spiagge si sono finora riempite solo durante i fine settimana, con molti ombrelloni che sono rimasti chiusi, e le città d'arte penalizzate dai giorni di caldo torrido di luglio, con molti vacanzieri che hanno preferito mete di montagna, dove gli alberghi hanno registrato un incremento di presenze. A incombere sulle partenze, poi, c'è il meteo, con le veloci perturbazioni e i temporali in transito sulla regione, che comunque dovrebbero concedere una tregua almeno nei giorni intorno a Ferragosto, quando sono attese di nuovo punte di 38 e 40 gradi. E proprio in vista del Ferragosto è già scattato il bollino nero, in particolare sulle autostrade, per le partenze massicce dei vacanzieri. Sabato è il giorno peggiore. Con le sorti del governo ancora tutte da decidere dopo l'apertura della crisi, c'è molta incertezza sulle vertenze sindacali aperte in Toscana, per le quali settembre si prospetta un mese decisivo. Tra i casi citati dalla FIOM CGL di Firenze, che ha stilato un bilancio sullo stato di salute dei diversi settori e sulle vertenze aperte, ci sono i casi toscani divenuti di rilevanza nazionale, come Beckert, dove i lavoratori in cassa integrazione attendono il piano di rilancio industriale e Inso, adeguamenti salariali e sicurezza sul lavoro, le patate bollenti dell'autunno. Sarà un autunno che prova a rimettere al centro, attraverso la presentazione della piattaforma per rinnovo del contratto nazionale, la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici metalmeccaniche. Noi ci apprestiamo ad andare a una discussione con i lavoratori nel mese di settembre che riguarda un rinnovo del contratto nazionale che pone al centro la questione salariale, principalmente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Guardando ai diversi settori, la FIOM registra anche risultati positivi, come nella meccanica, localizzata nel Chianti e nel Mugello, e nelle aziende di accessori per la moda e di informatica, più instabili i settori di telefonia e fibra. Su tutto grava però, lamenta il sindacato, la mancanza di dialogo con le associazioni dei datori di lavoro.